Cosa accade se la magia approda in una sede istituzionale? E' il fil rouge dello spettacolo di Nouvelle Magie francese di Etienne Salliot andato in scena a Palazzo Lascaris. Il progetto Fantôme si inserisce nella rassegna teatro a corte ed è stato ideato e scritto da Salliot, un vero e proprio maestro della nuova magia, giocoliere e manipolatore, che dopo il grande successo di Le Suarde Monster del 2009 approda a Torino con l'installazione per grandi spazi Fantôme che ha popolato di fantasmi il cortile di Palazzo Lascaris.